Buongiorno da Edo e benvenuti alla puntata numero 235 di questo podcast. Non ho mai detto il numero delle puntate, l'ho sempre messo però nel titolo. Questa la dico perché è un po' speciale, no? Perché questa, come vi avevo annunciato, è l'ultima puntata del buongiorno. Questa è l'ultima puntata di questo podcast. Oh, questo non significa che io poi sparisca e non faccia più contenuti online, video, cose, no, no. Io rimango, farò altre cose, semplicemente voglio terminare così questo podcast. Tra l'altro che sta prendendo una buona attrazione proprio in questo momento, quindi io lo termino quando sta iniziando a crescere. Ottima idea, perché io sono uno stratega, io queste cose le percepisco mesi prima e poi pianifico tutto, ma va così. Comunque, se vi è piaciuto quello che ho fatto fino adesso, può darsi che vi piacerà anche quello che farò in seguito. Insomma, quindi rimanete un po' ad ascoltare, rimanete sintonizzati, come si dice, per vedere che cosa farò che magari potrebbe piacervi. In ogni caso, ad agosto e settembre non farò grandi cose, magari qualcosina di sporadico, di, ecco, già in qualche modo mezzo scritto lo ripubblicherò, ma insomma non sarò costantemente ad aggiornare cose, quindi pausetta, anche perché, e magari poi se vi collegherete alla live di oggi a pranzo ve ne parlerò, cambieranno alcune cose nella mia vita professionale, quindi dovrò un attimino, ecco, adattare anche la mia presenza online, ma poi insomma lo vedrete. Quindi, oggi ultima puntata, e puntata casualmente dedicata a Microsoft, perché naturalmente la grande notizia di ieri, quello di cui si è parlato ieri, è un outage a Azure, o Azure, insomma quello che vi pare, che ha colpito proprio i servizi cloud di Microsoft, quindi andremo un po' a vedere di cosa si tratta. Peraltro nel giorno in cui Microsoft presentava i risultati finanziari del Q4 2024, quindi insomma non un tempismo perfetto, poi vedremo anche quelli. Però prima delle news vi faccio sentire una cosa, sentite, sentite qua. Quella che sentirete è la voce di Toti riprodotta dall'intelligenza artificiale. Dopo tre mesi dall'inizio dei miei arresti domiciliari e la conseguente sospensione dall'incarico che gli elettori mi hanno affidato per ben due volte, ho deciso sia giunto il momento di rassegnare le mie irrevocabili dimissioni da presidente della giunta regionale della Liguria. Dici cosa sta succedendo in questo podcast? Stiamo parlando di politica? No. La cosa peculiare che mi pareva giusto, corretto segnalare, ecco come curiosità, è che ieri, o l'altro ieri non mi ricordo, qualche giorno fa il Tg1 ha mandato questo servizio in onda dove leggevano una lettera di Giovanni Toti, ora ex presidente di missionario della regione Liguria, però la lettera non la sta leggendo Giovanni Toti, la persona, l'autore Giovanni Toti, la sta leggendo l'intelligenza artificiale, così come tra l'altro il Tg1 ha segnalato. E penso che sia la prima volta che in un telegiornale, comunque pubblico, in un servizio pubblico, c'è un contenuto così esplicitamente prodotto dall'intelligenza artificiale. La cosa peraltro curiosa è che non sappiamo se Giovanni Toti ha consentito ad utilizzare la sua voce per leggere questa lettera. Non ho trovato ulteriori dettagli su questo, sarebbe interessante se non avesse dato l'assenso all'utilizzo della sua voce. Comunque questo potrebbe essere un piccolo segnale di cosa ci aspetta, del futuro, di esempi di come verrà usata l'IA anche nell'informazione pubblica. Poi, non lo so, è carina fare questa roba qua? Era meglio che la leggesse un giornalista? Toglie il lavoro ai giornalisti? O comunque aggiunge qualcosa? È solo estetica? È solo cosmetica? O aggiunge qualcosa di interessante anche a livello contenutistico? Non lo so, comunque mi pareva croccante segnalare questa vicenda. Giovanni Toti, ma non il vero Giovanni Toti, un IA. Forse ipotizzo fatta con Eleven Labs, che poi lo stesso servizio lo utilizza Rabbit R1 per fare le sue voci? Non lo so, comunque la voce non sembra malissimo come riproduzione. Ovviamente è un po' monocorde, ma forse perché è stata addestrata con discorsi pubblici di Toti dove lui rimane un po' monocorde come tono, come intonazione, però fondamentalmente pare una resa tutto sommato accettabile. Però non so se sia accettabile il fatto che al servizio pubblico arrivino contenuti prodotti da una IA e non da giornalisti. Basta, questa è la curiosità di oggi, l'ultima curiosità del buongiorno da Edo. La, vedi, mi spinge verso la politica e verso Giovanni Toti. Va bene, comunque andiamo a vedere l'outage mitico di Azure di ieri. Allora eccoci qua, sono su Bleeping Computer e nella mattinata di ieri esce questo articolo in cui si parla appunto dell'outage di Azure. Dice, Microsoft sta investigando questo global outage, quindi una disruption globale della rete Azure, che blocca l'accesso ad alcuni servizi di Microsoft 365 e di Azure. Dice un portavoce di Microsoft, stiamo investigando queste issue e le performance degradate con molti servizi di 365 e molte caratteristiche del nostro cloud, più informazioni potete trovarle qua, bla bla bla. Comunque, molti utenti iniziano a riportare dei problemi, a connettarsi alle loro istanze, ai loro admin center di Microsoft 365. A questo punto, la compagnia, la mattina di ieri, dice che questo incidente ha colpito vari utenti globalmente, ma soltanto un sottoinsieme, un subset dei propri servizi. Dice che stanno investigando e va bene. Iniziano ad arrivare un po' di update nel corso della giornata, nel corso della mattinata e poi del pomeriggio, Microsoft dapprima conferma che l'outage impatta 365, poi altri servizi come Intune, Entra, Power BI, Power Platform Services, e poi aggiunge anche che ci sono una serie di servizi non colpiti da questo outage, che sono SharePoint Online, OneDrive for Business, Microsoft Teams, Exchange Online, e queste cose qua, insomma, non sono colpite. Dice poi Microsoft nella status page che gli utenti che accedono alle istanze 365 impattate possono sperimentare, insomma, un po' di performance degradate o anche blocchi totali. Arriva poi un altro update e Microsoft dice di aver migliorato la disponibilità dei propri servizi cambiando una configurazione della network. Dice appunto l'azienda, abbiamo implementato un cambiamento nella configurazione della network e alcuni servizi di Microsoft 365 stanno appunto facendo fallback su altri path, su altri percorsi nel networking e questo ha ristabilito alcuni di questi servizi. Dopodiché Microsoft dice da cosa è stato causato questo outage, dice, cito in inglese, unexpected usage spike, che potremmo tradurre come un incremento improvviso nell'uso delle risorse, e dice che questo ha portato a una degradazione delle performance di Azure Front Door e Azure Content Delivery Network, quindi praticamente alla CDN di Azure che le ha portate poi a avere questi errori, questi problemi all'accesso ai servizi. A questo punto dice che stanno aggiornando gli approcci di mitigazione per minimizzare i side effects. A questo punto arriva l'update definitivo verso sera, dove dice Microsoft che la gran maggioranza dei propri utenti e dei propri servizi sono stati completamente ristabiliti. Ci dice The Register che i problemi hanno iniziato a presentarsi circa alle 11.30 UTC, fate voi la conversione con la vostra timezone, e che questo problemone arriva come un sudore freddo a alcuni sistemisti dopo che la settimana scorsa appunto è arrivato questo problema di CrowdStrike che ormai conosciamo molto bene e alcuni hanno anche ironizzato la cosa su Twitter dicendo ma non è che magari abbiano appena installato CrowdStrike su Azure? Per l'altro l'altra cosa interessante che ci dice proprio The Register è che Microsoft proprio ieri doveva presentare gli ultimi risultati finanziari su cui appunto Azure doveva essere il focus, uno dei focus primari, insomma quindi non un tempismo è perfetto. Dopodiché ecco alcuni aggiustamenti che come abbiamo visto hanno impattato, hanno mitigato questo problema che i servizi hanno cominciato ecco a comportarsi normalmente. E sapete che ci sono però un po' di impatti in giro per i servizi direte, non a livello di quello che è successo con CrowdStrike ma comunque certi servizi anche importanti sono stati impattati. Per esempio il sistema di giustizia, i tribunali nel Regno Unito sono stati proprio impattati da questo servizio tant'è che loro hanno twittato su X, ecco, che sanno che ci sono problemi all'accesso ai propri servizi e questo è dovuto all'outage di Azure. Quindi hanno proprio ammesso, hanno fatto un velocissimo post-mortem dicendo a colpa di Azure. Quindi come ci conferma anche The Stack, questo outage è stato dovuto proprio da un problema alla CDN di Azure. Sono due servizi, si chiamano Azure Front Door e Azure Content Delivery Network, sono proprio servizi che Microsoft descrive come una moderna CDN, ecco, moderna CDN che però non è stata apparentemente resiliente a questo problema. Che cos'è una CDN? Lo do abbastanza per scontato, non vi faccio il disegnino, non vi beccate oggi il disegnino per spiegarvi che cos'è una CDN, immagino, dopo è scontato che insomma tutti sappiate che cos'è. Se non è così, mi dispiace, oggi non mi sono preparato il disegnino per farvi vedere che cos'è una CDN. Tornando invece a parlare degli impatti, ecco, dopo appunto il dramma di CrowdStrike, insomma, ci siamo un po' tutti preoccupati che non avvenisse una cosa simile su scala globale, perché comunque ancora una volta questa roba qua ci mette in luce quanto ormai siamo dipendenti da poche aziende nel mondo, no? Se CrowdStrike si è fatto capire che gli EDR sono pochi e quindi se ne va giù uno, tante aziende sono impattate, anche col cloud lo scenario è lo stesso, no? Perché abbiamo Microsoft, abbiamo Google, abbiamo AWS, oltre a qualche altro attore minore e a Alibaba in Cina, ma insomma, anche qua la concentrazione del potere è molto elevata, quindi se uno di questi ha dei problemi, gran parte del mondo di riflesso ha dei problemi. Per esempio, qua ci dice l'articolo, abbiamo avuto problemi nei video giocare a Minecraft, perché Minecraft si appoggia sui servizi di Microsoft, perché tra l'altro Microsoft si è acquisita Mojang, che è l'azienda che ha creato Minecraft, e quindi molti utenti non potevano giocare, anche Unity, l'engine per creare videogiochi, Unity, abbiamo parlato altro spesso in questo podcast, ha avuto problemi che impedivano di scaricare l'engine, anche MongoDB e Moesif, che ho appreso adesso che è una piattaforma per fare analytics di API, metriche, logs, pricing, eccetera, va bene, entrambi hanno avuto dei problemi. MongoDB ha scritto che l'outage di Azure ha causato performance degradate sul Atlas cluster globalmente, in alcuni casi il cluster non era accessibile. Anche GitHub ha avuto dei problemi su Codespaces, in particolare intorno alle 9.30 Eastern Time, e più o meno mezz'ora dopo anche DocuSign ha avuto dei problemi con la sua feature Rooms. In entrambi i casi non abbiamo conferme ufficiali che si tratta di Azure, ma possiamo speculare che siamo in quelli intorno lì. Anche Starbucks ha avuto problemi con la sua app mobile, non ha confermato trattarsi di Azure, ma insomma, siccome si è verificato in quel momento e si è risolto quando Microsoft ha risolto il problema, ecco, più o meno possiamo pensare che siamo in quelli intorno lì. Allora, qualche spiegazione tecnica ulteriore sulla vicenda e su come hanno risolto. Microsoft dice sulla sua status page, sulla history, nella status page di Azure, che l'incidente è il risultato dell'upload, anzi del deploy, di un cambiamento alla configurazione del backend di Azure, di workload del backend di Azure. Quindi il deploy di una configurazione apparentemente, insomma, di Kubernetes errata, che ha portato poi alla degradazione totale di queste performance. Dice la nota ufficiale, un workflow del backend cluster management ha deployato un cambiamento nella configurazione causando un blocco degli accessi proprio di un subset dei cluster di Azure storage e delle compute resources nella regione central US. Quindi dovrebbe essere limitato a quella regione dello storage di Azure. E per questa configurazione errata, che apparentemente riguarda la networking, le risorse nello storage si riavviavano automaticamente perché avevano perso la connettività. La connettività poi non veniva restaurata immediatamente, quindi queste risorse rimanevano comunque in stato non verde, quindi queste risorse non erano di fatto accessibili. Poi hanno risolto il programma di configurazione, hanno deployato le nuove configurazioni con dei fix che comunque hanno portato dei side effects per alcuni utenti che hanno ancora lamentato uno dei problemi ieri in serata, poi sono stati nel tempo risolti. E sì, come dicevo, questo dramma è avvenuto proprio nel giorno in cui Microsoft ha presentato le revenue del Q4 del 2024. Questo trimestre che si è chiuso, deve essere l'ultimo trimestre del 2024. Adesso non so bene come vengono calcolati i trimestri fiscali, non me lo chiedete, non me ne frega neanche niente, ma insomma sono risultati finanziari, economici. Perché ci interessano? Non lo so, in realtà ci interessano perché possiamo vedere come un po' sono divise le revenue di Microsoft. Cioè capiamo da che cosa Microsoft oggi, l'azienda Microsoft oggi, prende i soldi? Quali sono le loro fonti di revenue principali? Secondo me questo è interessante. Allora, cosa dice Microsoft in questo report fiscale? dice che hanno fatto 64,7 miliardi di revenue totali e un profitto netto di 22 miliardi durante appunto questo Q4. Le revenue, quindi il totale di quello che hanno incassato, cresce del 15%, mentre il netto cresce del 10%. Quindi comunque vedete gli incrementi, 15 totale, netto 10%. Dice Microsoft che l'intelligent cloud, quindi la business unit intelligent cloud che include i prodotti server e tutti i prodotti cloud, quindi anche Azure, era 28,5 miliardi totali e cresce del 19% anno su anno. Quindi c'è una crescita del 19% nel revenue totale del cloud di Microsoft. E questa parte, quindi tutto il cloud per Microsoft, è circa il 45% di tutte le revenue. Quindi Microsoft per circa la metà oggi è un'azienda che si basa sul cloud e che si appoggia proprio sulle revenue del cloud. Quindi buona notizia sul fronte cloud, meno sul fronte invece delle altre unità, perché i device, quelli venduti agli utenti come Surface, l'hardware di Xbox per il gaming, tutti questi device insomma che Microsoft vende direttamente ai consumatori, ecco invece scendono ancora una volta, sono ancora in calo. E le revenue di Surface è la settima volta consecutiva che carano così. Un altro dato in crescita invece sono le revenue sulle vendite di Windows OEM, cioè le licenze che i produttori devono pagare a Microsoft per preinstallare Windows sui propri device, sui propri laptop in genere. Ecco, queste stanno crescendo, sono su del 4%, questo naturalmente riflette la crescita degli acquisti di PC in generale, di PC e di laptop, un mercato che sappiamo essere in crescita. Dobbiamo ancora vedere naturalmente gli impatti dei nuovi prodotti Microsoft lanciati poco tempo fa, in particolare i Copilot Plus PC, quelli con Qualcomm eccetera. Ecco, l'impatto di quelle vendite si vedrà invece nel prossimo trimestre, quindi ancora adesso è troppo presto. Comunque, come dicevo, le revenue di Surface scendono, scendono del 11% ed è appunto la settima volta, il settimo quarto consecutivo che le revenue di Surface scendono così. E tra l'altro la CFO di Microsoft, Amy Hood, ci dice che anche nel prossimo trimestre dovremmo aspettarci un'altra discesa delle revenue di Surface. Per quanto riguarda invece il settore gaming, qui ci sono due facce della medaglia. La prima riguarda i contenuti e i servizi, la seconda riguarda l'hardware, quindi la vendita delle console. Per quanto riguarda la prima, quindi i contenuti e i servizi, che includono anche il servizio Xbox Game Pass, che per chi non lo conosce è una roba tipo Netflix, quindi un abbonamento mensile per poter accedere a un catalogo di videogiochi, ecco, questi servizi quindi crescono del 61%, un incremento ovviamente notevole. Qui c'è lo zampino dell'acquisizione, che è stata fatta qualche mese fa, è stata completata qualche mese fa, se vi ricordate, di Activision Blizzard, che è un altro gigante del mondo dei videogiochi, ecco, Activision Blizzard ha contribuito a questa revenue per il 58% netto. In ogni caso, anche senza l'apporto di Activision Blizzard, le revenue di Xbox sarebbero comunque su di un 3%, quindi sarebbero comunque in crescita. Ma insomma, avete visto che Activision Blizzard porta un bagaglio considerevole di revenue. Tra l'altro, sempre a proposito di Game Pass, Microsoft aveva detto a febbraio che gli utenti di Game Pass erano arrivati a 34 milioni, 34 milioni appunto di utenti paganti l'abbonamento, e poi sappiamo che i prezzi degli abbonamenti saliranno, saliranno da settembre con, se vi interessa, insomma, Game Pass Ultimate arriverà a 19,99 dollari al mese, quindi 3 dollari di incremento, e il Game Pass PC, perché ci sono dei tier diversi a seconda di PC, console, eccetera, insomma, anche il PC Game Pass salirà a 11,99 dollari, poi non mi ricordo in euro quanto saranno questi prezzi, insomma. C'è un incremento. E invece, come vi dicevo, l'hardware è una cosa completamente diversa, perché l'hardware invece scende. Le revenue dell'hardware di Xbox, quindi la vendita delle console, quello è giù, ma è giù di tanto, è giù del 42%, quindi, insomma, le revenue totali delle vendite di Xbox vanno male. E tra l'altro, il messaggio commerciale, la comunicazione di Microsoft, si sta concentrando su un distanziarsi dalle console. Cioè, il messaggio è, non serva le Xbox, non servono le console. Potete accedere ai servizi di Xbox, dove vi pare, su PC, in cloud, dalle app per Xbox TV, per esempio, che sono appena arrivate su Amazon Fire, che ci sono già sulle TV Samsung, insomma, potete accedere a questi servizi da una varietà di device diversi, quindi non vi è richiesto di comprare una Xbox. Quindi, immagino che si aspettassero anche una discesa delle revenue del settore hardware, insomma, perché a livello di marketing stanno dirottando l'attenzione proprio dall'hardware fisico invece ai servizi. Anche perché, nonostante la discesa delle revenue di Xbox come hardware, il revenue totale della divisione gaming di Microsoft sale del 44% in totale. Quindi, anche qua, una crescita notevole, anche qui, ancora una volta, aiutata dalle revenue addizionali di Activision Blizzard, che impattano per il 48% del totale di questa divisione. Se non ci fosse stata Activision Blizzard, le revenue della divisione gaming di Microsoft sarebbero scese del 4%. Quindi, vedete quanto è efficace, quanto è stata efficace, proprio a livello di fatturato, l'acquisizione di Activision Blizzard. Ha parlato anche Satya Nadella, CEO di Microsoft, e ha detto che hanno 500 milioni di utenti attivi ogni mese sulle loro piattaforme, sui loro dispositivi, riguardo al gaming. 500 milioni di utenti attivi mensili, quindi un numero spropositato. Non sono mai state così numerosi gli utenti che giocano a servizi di Microsoft. E non è finita qui, perché hanno annunciato che si aspettano per il prossimo trimestre una crescita ancora circa del 50% nelle revenue di questa divisione. Quindi, insomma, è una parte del business sempre più importante per Microsoft, anche se sempre la CFO UD si aspetta che l'hardware, invece, continuerà a scendere. Quindi la parte destinata all'hardware sarà sempre più marginale. Veniamo invece alla parte di servizi cloud e office che continua a salire. Quindi nel Q4 2024 sta salendo, come ci si aspettava. I prodotti di office, prodotti commerciali, servizi cloud di office salgono del 12% e i prodotti di office 365 salgono del 13%. Sulla parte, invece, consumer, quindi gli utenti desktop, insomma, di office, le revenue si alzano del 3%, quindi comunque c'è una crescita e i subscriber, quindi gli abbonati a Microsoft 365 versione consumer, crescono del 10% e sono oggi a 82,5 milioni di utenti. Tra l'altro salgono anche le revenue di LinkedIn, cosa che non mi aspettavo, del 10%, neanche poco. Ecco la parte di server e di cloud, anche qua cresce notevolmente, cresce del 21%, questo quarto e di tutta questa crescita Azure e gli altri servizi cloud impattano come crescita del 29%, cioè, riformulo, Azure e gli altri servizi cloud crescono del 29%, quindi in tutto questo settore cloud. Ma nonostante questo, siccome gli analisti si aspettavano una crescita ancora maggiore di Azure e del cloud, ecco che il titolo di Microsoft ha sofferto un po' in borsa, perché va così. E a proposito di borsa, gli stessi investitori stanno sempre lì ad aspettare che ci sia un boom dell'AI che porti a una crescita ancora più esagerata di Azure dovuta proprio all'AI. Sempre la Wood dice che l'AI sta contribuendo in maniera importante alla crescita di Azure e si aspetta una crescita di circa 28-29% di Azure dovuto all'AI nel Q1 2025. Comunque avete visto una crescita notevole del vatturato globale di Microsoft, soprattutto trainata da cloud e gaming, un po' meno dall'hardware, quindi Microsoft sempre meno azienda produttrice di hardware e invece sempre più dedicata ai servizi. Comunque, per festeggiare questo risultato positivo, Microsoft ha anche elargito ai propri dipendenti un premio in denaro che è circa tra il 10 e il 25% del valore del bonus regolare, quindi un extra bonus dato ai propri dipendenti. O e adesso non indosso questa magliettina a caso perché c'è da festeggiare una nuova major release di OpenTofu appunto di OpenTofu e questa è una release importante che conferma tra l'altro che il progetto è super solido, sta ottenendo sempre più riconoscimenti, sempre più persone lo usano, switchano da Terraform a OpenTofu e per chi non lo sapesse, per chi non si ricordasse, OpenTofu è il fork di Terraform e ne è la propria versione open source di fatto perché Terraform ora non è più ufficialmente open source, ha cambiato licensing model OpenTofu invece ha continuato ad abbracciare le licenze completamente open che c'erano prima di questo cambio quindi adesso abbiamo due prodotti dedicati all'infrastructure as code e sono appunto Terraform e OpenTofu che sono più o meno interscambiabili ma stanno iniziando a divergere naturalmente perché i due team adesso vanno avanti su binari separati ma insomma la nuova release arriva con molte feature che gli sviluppatori aspettavano da anni la versione è la 1.8 e non è soltanto un update incrementale dice un articolo che leggo su The New Stack ma ci sono davvero delle feature importanti per esempio e la cosa che apre tutti gli articoli che ne parlano c'è la valutazione di variable e locals non vi sto a spiegare ma insomma gestione delle variabili nei blocchi Terraform che su Terraform non era possibile e come dice Flavius Dinu che è un developer advocate di Spacelift questa è assolutamente la feature che tutti si aspettavano di più che tutti attendevano con più ansia più trepidazione c'è un'altra feature che era nella wishlist di tutti gli sviluppatori come dice l'articolo che sono i Dynamic Providers questi danno la possibilità di creare delle configurazioni dinamiche dei provider programmatiche proprio e questo ha partito una serie di nuove possibilità per gestire infrastrutture cloud più complesse e effettivamente è un passo avanti notevole di OpenTofu rispetto proprio al resto dei propri competitor in IAC ovviamente la 1.8 non è solo nuove feature ma è anche improvement generali stabilità correzioni di bug miglioramenti incrementali a funzionalità già esistenti come per esempio il comando tofu test che era stato introdotto nella versione 1.6 che adesso supporta anche le variabili nei file di test questo rende naturalmente più facile scrivere i test e c'è anche un miglioramento nelle capacità di state encryption quindi nella criptazione dello state end to end che è una feature che su Terraform non c'è è stata introdotta da OpenTofu nella 1.7 ecco la 1.8 migliora il meccanismo di rotazione delle chiavi e supporta anche altri sistemi di gestione proprio delle chiavi e ci sono poi anche miglioramenti alle performance che promettono proprio tempi di esecuzione più veloci per configurazioni molto grandi naturalmente non è tutto finito tra luce e vino con Terraform anzi ci sono ancora dei contenziosi abbastanza importanti recentemente ci sono state delle accuse di arrubarsi del codice cioè dipendenti di Terraform hanno accusato dipendenti di Ashicorp scusate che è l'azienda che sta dietro a Terraform hanno accusato sviluppatori di OpenTofu di aver preso del codice da Terraform protetto dalle ultime licenze non open e averlo usato direttamente in OpenTofu gli sviluppatori di OpenTofu hanno negato assolutamente queste accuse però insomma questo ci ricorda che le relazioni tra le due entità non sono propriamente rilassate c'è un po' di tensione comunque il progetto come dicevo sta crescendo ha superato le 23.000 stelline su Github che sono più o meno un indicatore della popolarità del progetto e ci sono adopters di alto profilo come per esempio alla squadra ecco si è aggiunta Oracle ne avevamo parlato qualche puntata fa e vi danno anche la testimonianza di uno che ha scritto su Linkedin si chiama Matt Gowie è CEO di Masterpoint Consulting e è una compagnia appunto che fa consulenza in cloud ha detto ha condiviso la propria esperienza di transizione da Terraform a OpenTofu sulla codebase di Infrastructure as Code di un proprio cliente hanno detto che in questo repo c'erano circa 39.764 righe di codice Terraform su 485 file .tf c'erano 53 root modules c'erano 90 istanze root modules quindi gli state files per chi conosce Terraform insomma so di cosa sto parlando e considerando insomma tutte queste risorse gli state files ci sono circa 2400 risorse gestite da Terraform bene hanno fatto il passaggio il replacement di Terraform con OpenTofu quanti cambiamenti hanno dovuto fare alla codebase di Terraform per adattarsi appunto a OpenTofu cioè cosa hanno dovuto cambiare per passare da Terraform a OpenTofu niente zero nessun cambiamento quindi il replacement è stato totalmente drop in senza dover toccare nessuna riga di nessun file di configurazione e tutto ha continuato a funzionare meravigliosamente insomma questo direi che è abbastanza impressionante oh vi lascio due link veloci è l'ultima puntatona vi lascio due link che vi dico la verità sono abbastanza lunghi io ho iniziato a leggerli mi sembrano interessanti però non li ho completati vi lascio lì così rimangono anche a me nella mia wishlist di lettura me li devo poi leggere con calma questo weekend che avrò un po' di tempo il primo si intitola Crowdstrikes Impact on Aviation ed è un'analisi proprio numerica di dati relativi all'impatto che Crowdstrikes ha avuto sul sull'aviazione insomma come definire sul traffico aereo ecco potevo dirlo così insomma sul traffico aereo quindi ci sono una serie di dati che comparano il traffico prima di Crowdstrike e durante invece il problema per capire quanto è stato effettivamente numericamente l'impatto e secondo me è un po' interessante soprattutto per chi è appassionato di dati di analytics insomma può andarsi a leggere questo articolo ve lo ripeto Crowdstrikes Impact on Aviation trovato sul blog che si chiama heavymeta.org comunque poi vi lascio il link in descrizione c'è anche il secondo link questo è più lungo e interessante richiede un po' di attenzione si intitola a Visual Guide to Quantization quindi siamo nel reame dell'AI siamo nei Large Language Model LLM qui si parla della quantizzazione e se vi ricordate insomma nelle scorse puntate abbiamo un po' accennato che cos'è la quantizzazione che è una roba che serve per ridurre le dimensioni memoria di un LLM per permettere poi di girare su macchine con meno RAM con meno memoria altrimenti le dimensioni sarebbero gigantesche questo articolo spiega come funziona matematicamente e tecnicamente la quantizzazione è un articolo molto complesso molto lungo però se vi interessa capire bene qualcosa di più sugli LLM su come funzionano su come fanno questi modelli che sono molto grandi poi a finire negli smartphone perché oggi abbiamo LLM che girano su smartphone con anche poca memoria insomma come è possibile ecco la quantizzazione è un concetto molto importante in questo articolo viene spiegato come funziona cioè come fanno a ridurre l'impronta del memoria senza perdere troppa precisione insomma altrimenti sacrificando un po' la precisione ma non troppo quindi con queste tecniche si perde ma non troppo quindi ve lo ripeto a Visual Guide to Quantization su una newsletter di Martin Grotendorst Martin Grotendorst spero di averlo detto bene comunque vi lascio anche in questo caso il link in descrizione e ci siamo siamo arrivati agli saluti finali dell'ultima puntata di questo podcast io non posso fra l'altro che ringraziare tutti quelli che l'hanno seguito dall'inizio due anni fa o che si sono ecco saliti in corsa che hanno ascoltato un po' di queste puntate quasi giornaliere di questo podcast dove ho provato un po' a raccontare l'attualità cercando a volte di approfondire a volte forse un po' troppo a volte troppo poco non lo so ho portato un po' un mio stile nell'analizzare nel leggervi queste news e spero che insomma vi sia stato apprezzato ecco mi ha fatto piacere ricevere insomma diversi complimenti e anche qualche consiglio insomma ecco è un prodotto di cui sono abbastanza orgoglioso tecnicamente per come è venuto anche se non ha diciamo sfondato nei numeri però per il momento non ci interessa ci interessa aver fatto qualcosa che ecco ha colpito almeno qualcuno e di cui posso essere orgoglioso quindi insomma grazie a tutti quelli che mi hanno seguito io pubblicherò questa roba fra un po' e però se riuscite a sentirla prima delle 13 del 31 luglio ecco alle 13 del 31 luglio sul mio canale YouTube ci sarà una live in cui ecco spiego un po' cosa succederà adesso nel futuro del mio della mia presenza online del mio canale faccio qualche analisi magari di cosa è stato e di cosa non so potevo cambiare far diversamente insomma qualche un po' di analisi anche dovuta guardando i numeri o comunque in generale qualche chiacchiera se qualcuno vorrà partecipare sto distruggendo tutto qua insomma domande varie chiacchiere varie eccetera per salutarci prima della pausa di agosto e settembre che vi ho preannunciato che sarà abbastanza lunga quindi quindi di nuovo l'ultimo buongiorno mi dispiace un po' però è un progetto che doveva concludersi in qualche modo e si conclude adesso la puntata 235 grazie di nuovo a tutti noi ci vediamo per altre cose online sicuramente non sparirò ciao